Testaccio, perché c'è un po' di tutto, è un quartiere molto vivo. Perché c'è una bella piazza, Piazza Santa Maria Liberatrice, dove c'è un piccolo parco per i bambini, perché c'è una delle sedi del Museo di Arte Contemporanea di Roma, il Macro, e poi perché c'è una cosa veramente unica, cioè il Monte dei Cocci. Sicuramente devi mangiare un piatto tipico romano, la matriciana. Durante il giorno è perfetta per le famiglie, però di notte si anima, quindi è perfetta per i giovani. Grazie per la visione!